Musica Buonasera a tutti gentili telespettatori, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, la stagione prosegue pur, lo ripetiamo spesso, vivendo giorno per giorno tra qualche rinvio e qualche conferma. In ogni modo tra le certezze c'è sicuramente la Lube, giunta all'ottava vittoria consecutiva ed ora anche in testa la classifica della Superlega per i problemi legati al Covid della Sir Safety Perugia. C'era molta attesa domenica scorsa per il derby delle Marche di A2 e Femminile, se lo è aggiudicato Macerata è andata a vincere per 3-1 a Vallefoglia sulla Megabox e ne parleremo diffusamente con un servizio. Mentre sinora forse i tornei più massacrati dal virus sono senza ombra di dubbio la 1 femminile ma anche un po' la 3 maschile. Parleremo di questo campionato e nello specifico della Videx Grotta Zolina con il suo allenatore Massimiliano Ortenzi. Buonasera. Buonasera. Massimiliano, grazie per essere intervenuto. E con il palleggiatore della formazione grottese Manuele Marchiani. Buonasera Manuele. Buonasera. Allora, Massimiliano, partiamo da dove eravamo rimasti a marzo scorso, perché intanto siete ripartiti direi con l'entusiasmo di sempre, nonostante la brusca interruzione della stagione scorsa che vi ha privato oggettivamente di un obiettivo che sembrava portata di mano per la vostra squadra, per la forza che avete dimostrato e per i risultati che avete ottenuto, se non sbaglio, 17 vittorie su 17, se non ricordo male. Retro gusto amaro, però siete comunque ripartiti. Sì, siamo ripartiti, nonostante il finale di stagione scorsa ci abbia lasciato un po' più che l'amaro in bocca. Insomma, aver fatto un percorso di quel tipo, essere riusciti comunque a costruire un gruppo che riusciva a giocare una bella palla a volo, a divertirsi e che ha lasciato davvero poco per strada. Era stato difficile, ci eravamo riusciti, stavamo facendo veramente bene. Poi l'interruzione, insomma, ha troncato tutti i sogni sul più bello. Però poi abbiamo recuperato tutte le risorse, abbiamo recuperato tutto l'entusiasmo di cui siamo capaci e ci siamo ridati nuovi obiettivi, ci siamo rimessi in moto per affrontare questa nuova stagione. Manuele, che retro gusto amaro vi è rimasto da quell'esperienza dove eravate veramente una sorta di rullo compressore, giocavate alla grande, avete ottenuto risultati strepitosi e poi per causa di forza maggiore tutto è stato annullato? È stato un percorso, diciamo, abbastanza netto il nostro. Non facile, come può sembrare da fuori, ma dietro c'era parecchio lavoro, è un gruppo solido. Siamo riusciti, anche a volte con fortuna, ma con molta tecnica e lavoro, a dimostrarlo in campo, nelle partite in cui siamo scesi, anche nella Coppa Italia con la squadra di A2. Il rammarico c'è, non tanto per quello che avevamo fatto fino a quel momento, ma per non aver avuto l'opportunità di finalizzarlo e fare i play-off, perché i play-off hanno sempre il loro fascino. Assolutamente sì, insomma, veramente interrotto sul più bello, però veramente acqua passata non macina più, non ne parliamo più, tu Massimiliano hai detto vogliamo lanciare un segnale di ottimismo un po' a tutto il nostro movimento. Intanto è un movimento che coinvolge la Serie A3, ma voi avete C femminile, Scuola Pallavolo, AMG, Monte Giorgio, Grotta Zonina, quindi un segnale di ripartenza un po' per tutta la vostra attività che è molto più complessa della sola Serie A3. Sì, assolutamente, il fatto di voler ripartire è stato proprio questo, un segnale di ripartenza, di grande entusiasmo a tutto il nostro movimento che comunque è ripartito quasi come se niente fosse, nel senso che comunque non abbiamo avuto nessuna flessione degli iscritti, anzi sono tornati tutti i nostri ragazzini e ragazzine, diciamo si è rinnovato quel clima di grande voglia di fare, di entusiasmo che c'era a marzo scorso, l'abbiamo ritrovato da subito. Poi adesso è difficile fare attività con queste nuove restrizioni, però vedo comunque nei nostri ragazzi, sia della Serie A ma in tutti, anche i più giovani, grande voglia di fare, grande voglia di comunque anche solo di fare attività, quindi questo insomma è il segno che stiamo facendo un buon lavoro anche dal punto di vista non solo sportivo ma anche sociale. Cioè l'importante è esserci comunque e dare appunto questo segnale. Veniamo un attimo alla costruzione della squadra massimiliano perché avete cambiato oggettivamente abbastanza rispetto all'anno scorso, cedendo pedine fondamentali, una squadra anche più giovane e più italiana, se vogliamo sintetizzare al massimo con Calarco, Cubito, per esempio. Sì, diciamo che rispetto alla stagione scorsa abbiamo ringiovanito molto, abbiamo ringiovanito molto il sestetto base e per via del fatto che comunque noi non ci nascondiamo, abbiamo dovuto ridimensionare anche un po' il nostro budget, abbiamo puntato comunque su ragazzi che devono dimostrare qualcosa, su ragazzi che comunque vogliamo lanciare nel panorama della Serie A da titolari, da protagonisti, come Starace, come il nostro Romagnoli, come il ragazzo che abbiamo preso Reyes da Società di Reggio Emilia. Ecco, quindi l'obiettivo è quello di mantenere comunque una base solida, partendo da Manu che è qui con me stasera, a Romiti, a Vecchi che sono un po' i veterani di questa squadra, e aggiungendo delle pedine per poter affrontare questa stagione nel migliore dei modi e per poterci comunque creare un sistema, un gioco, come avevamo fatto l'anno scorso, che possa darci nel tempo delle belle soddisfazioni. Insomma, responsabilizzare anche i giovani, tu parlavi di Romagnoli che è un 99, credo. 98. 98, lo stesso Starace che vedo che schieri praticamente sempre nel sestetto, sostanzialmente. 99 lui. Esatto, dare veramente questa possibilità. Tra le certezze c'è, possiamo dirlo, Manuele Marchiani, che noi ricordavamo, giovanissimo, Manuele tu eri venuto nei nostri studi ai tempi addirittura della lube, parliamo di dieci anni fa, e che ti ritroviamo 31enne alla terza stagione a Grottazzolina, un ambiente che evidentemente ti piace, no? Assolutamente sì. Ormai è il terzo anno questo, se non sbaglio. Sì, è il terzo anno. Come ho detto sempre, fin dall'inizio sono trovato molto bene in questa grande famiglia. Sono vicino casa, conoscevo un sacco di persone che mi hanno portato a venire a Grotta, e adesso ne conosco ancora, che sono riusciti a farmi rimanere lì con molto piacere. Quindi sono tre anni, purtroppo con risultati strani, sia dal primo anno della 2 in cui retrocedevano praticamente quasi tutte le squadre. L'anno scorso c'è stato questo imprevisto, e speriamo quest'anno di riuscire a fare un bel campionato. Senti, la tua carriera io non la voglio riepilogare, però è passata attraverso anche molte squadre, varie squadre. Ci sono stati dei capitoli più importanti di altri, se li vuoi dire? Beh, io sì, praticamente fino a Grottazzolina ogni anno ho cambiato squadra. Ma per scelta tua o perché un po' è capitato così? Un po' a volte è capitato, anche in annati in cui avrei voluto rimanere, però sui vari vicissitudini hanno portato allo sfasciarsi della squadra. Altri anni perché comunque c'è sempre bisogno di stimoli nuovi. All'inizio ho fatto la mia gavetta, un po' da secondo, un po' da primo nel Club Italia, poi appena ho avuto comunque l'opportunità di giocare sempre titolare, ho sempre cercato di andare nella squadra, nella società in cui potessi avere più risultati, in cui mi potessi trovare meglio, insomma. Come a Grottazzolina, insomma. Esatto, esatto. Una delle migliori, secondo me, nell'annate, posso dire sfortunata all'inizio, però molto bene all'inizio, alla fine era quella di Reggio Emilia, è stata importante, a Vibo, in cui ho avuto allenatore soltanto per metà anno, De Giorgi. Sono, ecco, fortune, diciamo, che bisogna sfruttare. Per un palleggiatore credo che sia il massimo, no, avere De Fede e Giorgi. L'anno scorso credo che ti divertivi parecchio, no, con gli attaccanti che avevi. Ma al di là di quello, avevi, insomma, grandi scelte. Grandi scelte, grandi attaccanti che, insomma, riuscivano anche a rimediare pallacce, diciamo, e quindi stai più tranquillo e viene tutto meglio. Voi, Massimiliano, l'ho accenato, avete preso anche questo giovane cubano, classe 2000, Hector Reyes. Ecco, parlaci un po' di lui, che giocatore è, che prospettive può avere, che ruolo può avere nella vostra squadra. Lui che, lo ricordo, è nato a Cuba, però ho visto, ho letto che è cresciuto pallabolisticamente, no, in Italia. Ma noi ogni anno cerchiamo, insomma, di pescare un po' nel panorama nazionale. Si fa di necessità virtù, no? Sì, sì. Dei giovani che abbiano delle caratteristiche che si sposano un pochettino, no, al nostro progetto tecnico. E quest'anno il fatto di aver scelto Alex, perché è un ragazzo che comunque ha grandi qualità, no, sia fisiche che tecniche, sul fondamentale dell'attacco e della battuta. E quindi è un ragazzo che, insomma, noi ci vediamo qualcosina in più. Ci vediamo un ragazzo che nel tempo può diventare un giocatore, insomma, un giocatore importante. Quindi l'abbiamo preso anche con l'idea, no, di fare un percorso insieme a lui, come abbiamo fatto con Starace lo scorso anno, vorremmo fare con lui quest'anno. Ecco, però quando metti in campo, quando metti, insomma, nel roster, quando ringiovanisci, devi essere disposto poi a pagarne un pochettino il prezzo in termini di qualche errore in più, in termini di meno tranquillità, come diceva Manu prima nel gioco. Ecco, un po' il concetto che sappiamo che sbaglieremo, dobbiamo sbagliare giusto, dobbiamo sbagliare nel modo migliore possibile e nel modo che ci aiuti a crescere. Ma chiaro, è una cosa che avete messo in conto, dovete cercare di limitare per quanto possibile questi errori. Io non voglio parlare della situazione che stiamo vivendo, perché magari le nostre trasmissioni danno anche la possibilità, no, per una mezz'ora, in qualche caso, come in questo caso, o in altri casi, di estranearci un po' dalla situazione generale che stiamo vivendo, però, d'altronde, non possiamo, per dovere di cronaca, non parlarne. E allora, come allenatore, ti chiedo questo. Dal punto di vista quotidiano, cosa comporta lavorare con questa situazione di totale precarietà e il fatto che non si sa mai, fino a 48 ore prima, se si parte per una trasferta oppure no? Cioè, come ti regoli proprio nella quotidianità delle cose, che forse è veramente un rebus? Guarda, noi fino ad oggi siamo stati, diciamo, fortunati, perché siamo riusciti sempre ad allenarci, tutti insieme, non abbiamo avuto problemi di alcun genere. Io ho chiesto ai ragazzi, ecco, di settimana in settimana, di essere bravi comunque a preparare la partita come se la partita ci fosse. Poi, se per causa di forza maggiore, come è successo domenica scorsa, ci sono dei rinvii, fa parte del gioco, fa parte di questo campionato, dobbiamo essere disposti a tenere botta, andare avanti, e poi, quando sarà il momento, recupereremo. Però, credo fermamente che sia importante, ecco, non solo il nostro messaggio, ma il messaggio della palla a volo, quello di continuare a giocare, continuare ad esserci, continuare comunque a lanciare un segnale di speranza e di distinzione in un momento veramente difficile per tutti. È una situazione di emergenza, però è un segnale di normalità. Capisco che la parola normalità deve essere messa tra mille virgolette, però il mondo dello sport deve essere, anche a mio avviso, capace di lanciare questo messaggio. Certo però, Manuele, che giocare senza pubblico a Grotta Azzolina è davvero qualcosa di strano, no? Tu sei abbastanza anziano, sempre tra virgolette, per ricordare quel palasport che era un catino di entusiasmo. Esatto, esatto, io me lo ricordo poi ai tempi d'oro, Parliamo di derby? Esatto, io di Loreto, nei derby con Grotta Azzolina era veramente una bolgia, e vedere gli spalti vuoti, insomma, non è piacevole, perché nei momenti concitati della partita sicuramente il pubblico in casa ti dà quella spinta in più che serve. Estranearsi è difficile, no? Pensare che tutto sia uguale senza pubblico è... No, no, non è assolutamente uguale. ...è pazzescamento utopico, secondo me, cioè proprio... Poi tu Massimilio ci sei nato e cresciuto in quel palazzetto, no? Quindi vederlo senza nessuno è davvero molto particolare. Nel senso, ti rinviano la partita con Tuscania, credo a 48 ore prima o 72 ore prima, che fai? Un richiamo di preparazione? Cerchi di spingere più dal lato fisico? In realtà noi abbiamo approfittato, abbiamo fatto un allenamento un po' più lungo il sabato, e ho approfittato, perché abbiamo qualche acciacchetto fisico per lasciare due giorni liberi in più, onestamente non ho fatto nessun richiamo, insomma, l'ho affrontato come se fosse stata una settimana di sosta, cioè è capitato già negli anni passati, no, di avere qualche turno di riposo. Io preferisco comunque che i ragazzi recuperino bene fisicamente per poi, ecco, questa settimana darci dentro e lavorare nel migliore dei modi. Certo, e allora andiamo a vedere il servizio sul derby marchigiano di Serie A2 femminile, quello che si è giocato domenica scorsa a Vallefoglia con il successo della CBF Balducci-Macerata, che ha conquistato tre punti pesantissimi e direi d'oro davvero preziosi contro la Megabox Vallefoglia, che rimane al secondo posto in classifica, Macerata sale a quota 9 e spera chiaramente in maniera concreta di poter rientrare tra quelle prime cinque che poi disputeranno la pool promozione. È stata una partita veramente giocata all'ultimo respiro e sentiamo le interviste ai due allenatori, realizzate per noi da Manolita Scocco. Coach, Bonafede vi temeva, l'aveva detto alla vigilia e aveva detto non è pretattica. avete portato via tre punti in maniera anche incredibile da un certo punto di vista, ci avete creduto? Sì, ci abbiamo creduto, anche se probabilmente l'approccio iniziale non è stato così di grandissima convinzione, però è stata una convinzione che è maturata all'inizio del secondo set. Siamo una squadra che si sta ritrovando, ma che ha ancora tantissimi problemi. Però abbiamo detto in settimana di non guardare più a queste cose, ma guardare le cose positive. Coach Bonafede ha detto le cose molto belle su di noi e sono ovviamente contento di questo, c'è una stima reciproca e una grande considerazione reciproca. Abbiamo fatto, credo, un'ottima partita oggi. È un premio per queste ragazze che per circa un mese e mezzo si sono allenate in condizioni difficilissime e mi auguro che sia un punto di ripartenza, perché poi risultato importante, prestazione importante, ma il mio pensiero va alla positività che possiamo portare già martedì in palestra. Questo è un aspetto fondamentale, perché quando si arriva vicino alla vittoria e poi sfuma il quinto set, per un non nulla è difficile dire abbiamo fatto le cose bene, perché alla fine zero in classifica e non porti a casa niente. Tecnicamente qual è stata? Su che cosa avete lavorato? Allora, sul servizio sicuramente, su alcune scelte di muro che hanno ripagato, perché credo che abbiamo tenuto abbastanza bene sulle loro attaccanti, che sono veramente due bocche da fuoco veramente notevoli, e poi una grande determinazione in difesa. Era un po' quello che ci stava mancando, facendo fatica a fare il 6 contro 6 in allenamento. Oggi, grazie a Dio è venuta fuori e credo che un po' la chiave sia stata servizio e scelte a muro. Poi in attacco abbiamo fatto molto bene, con delle prestazioni che sono state per alcuni tratti anche sorprendenti. Forse non dovrei, ma se lei fosse al posto di buona fede, cosa direbbe? Come commenterebbe questa partita? È un po' difficile. No, non lo posso... Sarebbe arrabbiato. No, beh, sì, sarei arrabbiato anche perché quando perdi, credo, due sette, no? Sono stati, uno in sette in rimonta, questo. Ovviamente per loro, anche per loro, è una partita estremamente importante. Noi venivamo da una condizione di classifica deficitaria e quindi, cioè, con delle aspettative diverse. Ovvio, oggi la squadra giocava per il primato, noi giocavamo per rientrare e per non rimanere marginate nella parte bassa della classifica. Quindi immagino questo, ma io assolutamente non mi permetterei mai di commentare la prestazione dell'altra squadra. Comunque abbiamo visto delle difese spettacolari e dei grandi recuperi. Sì, beh, è stato bellissimo da tutte e due le parti, credo. Un po' di fortuna. Sì, sicuramente, perché poi, ecco, diciamo sempre, la fortuna è una componente però che va ricercata, perché se su quella palla non provi ad andarsi, poi la puoi prendere anche con la punta dei capelli, però ci devi provare, ecco, la mentalità giusta è questa, si è vista, credo, da tutte e due le parti e sono veramente contento. Un bel derby. Sì, bello, ecco, poterlo raccontare così è ancora più bello. Grazie a voi. Cocci, io riparto da quello che ho detto a Paniconi, no? Lei non era pretattica, temeva molto questa partita e si è vista. Ma innanzitutto devo fare i complimenti a loro, sono stati bravi, hanno fatto quello che dovevano fare, era quello che ci aspettavamo e quindi assolutamente hanno portato via tre punti meritati, no? Niente da dire. L'analisi che ho da fare sulla mia squadra che si è mostrata non matura, non pronta a gestire un percorso di un certo tipo. Le avevo avvertite durante la settimana che ogni partita si parte da zero e invece abbiamo vinto il primo set, giocando comunque una brutta palla a volo e negli altri aspettavamo che loro facessero punti per noi. Invece loro ovviamente facevano punti per loro e si è affondati. Il secondo set parla da solo come specchio di una serie di errori che veramente non hanno niente a che fare con questo livello, ma frutto proprio di un approccio e di una mentalità sbagliata di cui io ovviamente mi prendo tutta la responsabilità perché io le alleno e le preparo e quindi ovviamente questo è. Coach, 21-18 due volte, terzo e quarto set e purtroppo nel momento in cui sembrava che il set volgesse dalla parte nostra per ben due volte, terzo e quarto, purtroppo l'hanno vinto loro. Diceva appunto della maturità che forse manca in certi momenti. Ma è proprio quello a cui mi riferivo prima, perché comunque nel punteggio eravamo lì e staremmo a parlare di un 3-1 dall'altra parte, però in realtà quando tu ti fai rimontare a questo livello facendo gli errori che abbiamo fatto, meritano loro sicuramente, cioè noi non possiamo recriminare niente, eravamo in quella situazione lì ma non facevamo una bella palla a volo e soprattutto non c'era aggressività, in difesa è caduto di tutto, non siamo stati proprio all'altezza, ma ripongo a dire, lungi dall'accusare nessuno, la responsabilità è mia, lo guido io il gruppo, quindi sicuramente sarà una settimana interessante la prossima. Derby Amaro? No, no, un derby è una festa, l'avevo detto prima e lo ribadisco adesso. In fondo, secondo in classifica, facciamo noi, loro ne erano 6, vanno 9 e noi restiamo adesso, non mi ricordo neanche quanti ne abbiamo, però non intacca un percorso che è stato assolutamente fino adesso sopra le attese, perché comunque anche quando avevamo vinto io avevo denunciato dei problemi di tenuta psicologica e di attenzione che si erano rivelati anche nelle altre partite, solo che gli avversari non erano macerati e con macerati abbiamo pagato. Ritorno a dire, ma avessimo vinto 3 a 1, le mie parole sarebbero stasera uguali, perché la pallavolo non è stata all'altezza, l'atteggiamento di qualche ragazza non è stato all'altezza, ma ritorno a dire, la responsabilità è la mia. La federazione italiana pallavolo, alla luce delle restrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre e nel prendere atto della situazione epidemiologica che sta progressivamente peggiorando, seppur a malincuore, si legge in una nota, ha stabilito per la pallavolo indoor di sospendere l'attività di interesse nazionale di ogni ordine e grado, ad eccezione dei campionati di Serie A, la cui organizzazione rimane di competenza delle leghe, rinviandola al prossimo mese di gennaio. Le attività di allenamento restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e locali e nel rispetto dei protocolli federali. Stesso provvedimento viene adottato per le discipline del beach volley e del sitting volley. La FIPA, avstante la situazione attuale di provvedimenti già assunti da alcuni comitati periferici, non può ignorare l'incidenza del Covid-19 sulle società e facendo proprie le oggettive difficoltà che le stesse stanno riscontrando sia nell'organizzazione sia nella programmazione dell'attività, si è vista costretta a prendere questa decisione sofferta. L'ultimo DPCM, infatti, anche alla luce della divisione del territorio nazionale in fasce differenti, non consente il regolare svolgimento dell'attività ed un'ottimale programmazione della stessa da parte delle società. Tale sospensione, che si aggiunge a quella precedentemente decretata relativa all'attività di interesse regionale promozionale, avrà validità, come detto, fino al mese di gennaio, entro il quale verrà rimodulata necessariamente l'attività. La Federazione Italiana Pallavolo, confidando nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora una volta che resta di fondamentale importanza, l'adottare comportamenti di buonsenso, sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, così come di primaria importanza la tutela dei rappresentanti legali delle società. Parliamo invece di questo campionato, di quel poco massimiliano che avete fatto fino a questo momento, nel senso che voi avete giocato due partite, vincete soffrendo con Modica, che ha poi andato a vincere alla grande a Catania, prima dello stop, come abbiamo detto, con Tuscania, per positività al Covid-19, tra l'altro di una sorta di collaboratore, credo, del gruppo della squadra ospite. Ecco, parloci però un po' delle due partite che avete affrontato, vittoria sofferta e successo netto invece poi nella seconda partita a Catania. L'esordio è sempre difficile, io ormai sono abituato a questo, la prima partita è sempre un po' un terno all'otto e noi da squadra giovane l'abbiamo dimostrato ampiamente, nel senso che comunque è stata una partita dove a farla da padrone sono stati un po' gli errori da una parte e dall'altra, quindi una partita anche a tratti un pochettino nervosa. Poi siamo stati bravi nel quinto set a trovare il guizzo per vincerla e questo ci ha dato, secondo me, già una piccola spinta per andare ad affrontare la prima trasferta a Catania, dove invece, sebbene contro una squadra che era una neopromossa, però abbiamo fatto, secondo me, una bella partita, una partita molto ordinata, una partita dove abbiamo difeso tantissimo e abbiamo battuto bene, quindi, secondo me, ecco, i veri valori devono ancora venire fuori, sia nostri che del campionato, però, ecco, già partire con due vittorie, secondo me ci dà un pochettino la spinta giusta per lavorare un po' su quelli che sono i temi caldi che ci devono contribuire. Se di voi siete stati inseriti in questo girone meridionale, mentre, lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, Macerata e Fano sono nell'altro raggruppamento. Io non credo che voi avete fatto salti di gioia, visto che dovete andare un paio di volte in Sicilia, una ci siete già andati, poi in Calabria, poi a Lecce, poi a Galatina, almeno da questo punto di vista logisticamente non è il massimo. Io sono abituato a non lamentarmi mai, nel senso che mi sarebbe piaciuto fare i derby, nel senso che, ecco, essere nella stessa regione, con Macerata e con Fano, e non poterci giocare contro, non vivere quell'atmosfera quando si gioca un derby, questo secondo me è davvero un peccato, però poi, dal punto di vista logistico, capitare al nord, capitare al sud, secondo me c'è poca differenza. Al nord bisogna andare a Bolzano. Sì, sì, Bolzano, Torino, noi siamo precisi in mezzo, quindi diciamo che va bene così, dai. Senti, ma Mare, com'è questo campionato di A3? Come ti ci trovi, no? Ne abbiamo parlato anche molto l'anno scorso, sicuramente con i pro e i contro, che questo comporta, certamente il livello tecnico è quello che è, però comunque si dà la possibilità, in teoria, un po' anche a giovani, come ne avete tanti voi, di poter maturare. Comunque in un contesto che per certi aspetti è competitivo. Esatto, sicuramente è nato per dare l'opportunità di confrontarsi con un livello più alto ai giovani promettenti. Secondo me quest'anno ancora di più il livello si è un po' livellato, nel senso sono tutte squadre abbastanza simili. e a fare la differenza, secondo me l'anno scorso erano un po' i campi, ecco, campi più caldi, con il pubblico. Quest'anno, visto che purtroppo tutto è azzerato, sarà un po' diverso. Però ecco, secondo me il livello si è un po' alzato e sicuramente dici, vado in casa della neopromossa, devi prenderla sempre con le pinze, perché dimostrano anche i risultati. L'ultimo Roma in casa con Anci Castello, hanno perso 3-1. Campionato strano e tutto quanto, però ovviamente non bisogna mai abbassare. Ma lo vediamo un po' a tutti i livelli e un po' a tutti gli sport, le sorprese sono veramente all'ordine del giorno. Invece Massimiliano, da un punto di vista tecnico, per quello che puoi conoscere, anche se avete visto poco, quali ritieni che sono le compagini più agguerrite, nel vostro girone per esempio c'è anche Pineto, che è una squadra che si conosce abbastanza bene, che è guidata da Gianni Rosichini e che ha tanti giocatori un po' che conosciamo, come Partenio, per esempio, come Bulfon, c'è Tuscania che voi dovete affrontare, che è affidata a Paolo Toffoli. Vuoi illustrarci un attimo un po' quali potrebbero essere le compagini in teoria più agguerrite, diciamo? Nel nostro girone sicuramente Tuscania è la società che ha investito un pochettino di più sul mercato per rafforzarsi, per puntare, dichiarare insomma di avere ambizioni importanti, la stessa Pineto che dicevi tu, comunque ha costruito un bel roster con dei buoni giocatori, anzi si stanno anche rinforzando da quelle notizie che arrivano. E poi io metto anche Palmi, che secondo me, rispetto allo scorso anno, dove erano una neopromossa, erano una sorpresa, hanno secondo me messo delle pedine nel posto giusto per diventare una squadra che può essere competitiva. Quindi ecco, queste sono le tre squadre, però non ne vedo una che possa fare il percorso che abbiamo fatto onestamente che abbiamo fatto noi lo scorso anno in questo girone, perché non vedo squadre che abbiano un tasso tecnico così più alto degli avversari. Credo che tutte le partite andranno ben interpretate e si giocheranno insomma su pochi palloni. Andiamo alla domanda più scontata, l'obiettivo? Ma il nostro obiettivo è quello di arrivare alla fase finale, di arrivare ai play-off con una squadra che vale di più di quello che vale adesso, nel senso dove i nostri giovani sono maturati, sono cresciuti, hanno fatto il loro percorso e arrivano alla fase calda con più consapevolezza, quindi arrivare a quel momento lì in forma e con i giocatori insomma con un bagaglio sulle spalle. Esatto, esatto. E diciamo queste partite sono appunto, non dico di preparazione, ma sono propedeutiche diciamo al miglioramento della squadra e del gruppo, perché immagino c'è da lavorare parecchio. Allora, vediamo il programma delle partite di questo fine settimana partendo dalla Superlega, non aggiornata del girone di andata. Le gare in programma sono Cucine, Lube, Civitanova, Top, Volle e Cisterna, domenica alle 18. Gli arbitri sono Florian e Papadopol, partita alle 18, che sulla carta non dovrebbe presentare grossi problemi per la formazione di Ferdinando De Giorgi. Ovviamente Perugia-Modena è rinviata a data da destinarsi per il focolaio di Covid che attualmente sta colpendo la formazione Umbra. Poi abbiamo Itas-Trentino, Tonno Callipo, Calabria, Vivo Valencia, Chione Padova, Allianz Milano, che si giocherà domani alle 18.15. Verona, Gas Sales, Blue Energy, Piacenza alle 19.30, mentre anche Vero Volley Monza, Consar Ravenna, è stata rinviata. All'altro girone ci dai un'occhiata e soprattutto Massimiliano, visto che se non sbaglio in preparazione avete affrontato in amichevole Macerata e Fano, che ruolo potranno giocare queste due squadre? La Mestor che dovrebbe appunto esordire finalmente, dobbiamo dire, domenica prossima sul campo di Brugherio? Secondo me Macerata giocherà un ruolo da protagonista, comunque una squadra che ha fatto degli investimenti degli investimenti importanti. C'hanno anche, insomma, il nostro ex, Snippe, che insomma salutiamo con piacere, che è un giocatore che per la categoria insomma è tanta roba, quindi ecco loro li vedo come una società che reciterà un ruolo da protagonista. e Fano ci abbiamo giocato quando ancora erano in rodaggio, però ecco, credo che anche loro abbiano dentro tanti giovani interessanti che con l'andare del tempo miglioreranno, quindi vedo anche Fano comunque a ricoprire un ruolo di medio-alta classifica. Poi, nell'altra parte, c'è Porto Viro, che dovrebbe essere, insomma, la squadra che l'anno scorso era prima nell'altro girone, quindi era il nostro riferimento dell'altro girone, che è la squadra, insomma, che più di tutti tra quelle di A3 ha investito quest'anno per fare un salto di qualità. Quindi ecco, queste tre squadre le vedo come attrezzate, per stare in alto. che potrebbero essere in pole position, chiaramente la men's door affronterà questa trasferta di Brugherio con delle assenze, perché il problema Covid è in via di risoluzione, ma non è ancora definitivamente risolto, ma già partire finalmente è importante per la compagine di Adriano Di Pinto dopo quello che ha passato, diciamo. Comunque, il calendario prevede la disputa della quarta giornata di andata con Prata di Pordenone, Sandona di Piave, Unitrento, Porto Viro, che si cercherà domani alle 20.30. La gara di Fano con Bolzano è rinviata, anche questa data da destinarsi, Brugherio-Mestor-Macerata domenica alle 18, poi Torino contro Motta di Livenza e Porto Maggiore contro Montecchio Maggiore. Voi invece, Emanuele, affronterete domenica alle 18 al Palasport di San Giorgio a Cremano, leggo, la squadra di Ottaviano. Non voglio mettere in difficoltà, però penso che qualcosa conoscete ormai di questa squadra. Intanto è senza pubblico, quindi forse per l'ambiente. Hanno cambiato anche il palazzetto da quello che io sappio, non è più quello dello scorso anno. Giocano a San Giorgio a Cremano, leggo, il paese di Massimo Troisi tra l'altro. Ah, beh. No, sicuramente è una squadra che mi sembra sia stata rinnovata quasi completamente. Conosciamo qualche ragazzo individualmente e sicuramente con i risultati che hanno ottenuto non sarà una trasferta facile e quindi stiamo abbiamo avuto anche questo weekend per preparare la partita al meglio. Bisognerà fare come a Catania semplicemente? Semplicemente no, però bisognerà fare allo stesso modo. Il problema è proprio che non è proprio la cosa più semplice del mondo praticamente. Allora, vediamo il programma invece in Serie 2 femminile dove si gioca la non aggiornata del girone di andata quindi praticamente si esaurisce il girone di andata con questo turno. Le gare Talmassons Megabox Vallefoglia domenica alle 17 partita che sarà arbitrata da Cecconate e Sabia poi Olimpia Teodora Ravenna Martignacco CBF Balducci Macerata Ipag Montecchio Maggiore Cutrofiano OMAG San Giovanni Marignano e riposa in questo campionato il volley Soverato. Ricordiamo appunto che le prime 5 possono accedere alla pool promozione quindi veramente ogni partita ha un'importanza davvero fondamentale e i punti in palio poi saranno anche riportati nella fase successiva. Invece Massimiliano vuoi ricordare velocemente il funzionamento del campionato di Serie A3? Ma quest'anno la formula è un pochettino cambiata rispetto allo scorso anno per permettere più squadre di partecipare poi ai play-off però ecco non ci sono le retrocessioni e diciamo che sarà importante poi arrivare per tutte le squadre più avanti possibile per avere degli abbinamenti più semplici nell'andare avanti dei play-off però si giocherà tutto poi con delle partite a scontro diretto nei play-off esatto sperando che questa situazione di precarietà e di emergenza venga definitivamente superata anche se forse questo è il pronostico più impossibile speriamo col pubblico i play-off esatto speriamo col pubblico perché semplicemente il fattore campo a Grotta Zonini è stato sempre un fattore e quindi quello può e deve contare parecchio anche perché veramente lo sport senza pubblico sì è importante che ci sia però è un'altra cosa lo diciamo spesso siamo in conclusione io ringrazio Emanuele Marchiani palleggiatore della Videx Rotta Zolina grazie Emanuele speriamo di non rivederci tra dieci anni tra dieci anni e comunque grazie a voi esatto ci sono tuoi colleghi che a 40 anni vanno ancora alla grande sì sì infatti spero di seguirne le orme esatto sai a chi mi riferisco ovviamente grazie a Massimiliano Ortenzi coach della Videx Rotta Zolina un grande in bocca al lupo per questa stagione comunque importante e interessante per la Videx grazie a voi tutti per averci seguito vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 21.30 sul canale 111 e alle 22.45 sul canale 11 di TVRS poi questa trasmissione sarà disponibile dalla domenica mattina sul nostro account YouTube grazie e buona pallavola a tutti a tutti i nostri posti